Miei carissimi milanesi, i milanesi lo sappiamo sono gente che non sta mai ferma, un po' c'è il mito, quello del milanese bruttito, che vabbè ormai diciamo, abbiamo capito che è solo un mito, però a volte insomma che non si sta mai fermi, che si inventa cose, che si vanno in giro a raccontare queste cose e che da cosa nasce cosa, insomma quello però è vero e spesso c'è di mezzo, se non un milanese doc, qualcuno che a Milano c'è nato o qualcuno che, pensate, è nato in una sorta di mulio del mulio bianco. Sigla Ebbene sì, allora lo vedete qui al mio fianco, l'ospite di oggi, di miei carissimi milanesi, è Mario Moroni, colui che è nato nel mulino. Ciao Fabio, sì ma in realtà sono nato al Buzie, Milano, ma mi sono trasferito subito dopo qualche ora nel mulino, poco fuori Milano, ma sempre milanese. Il mulino è sempre rimasto per me un mito, e l'ho anche visto. E' vero, è vero ed è fisicamente, cioè non hai visto solamente l'immagine, il video online, ma hai visto fisicamente. C'è, c'è, in provincia di Milano, a Darluno per precisione, dove tu muovi già i primi passi lì, no? Ci stiamo partendo con una biografia, diciamo. Sì, sì, ci partiamo con una biografia da lontano. No, perché? Perché voglio arrivare al fatto che Mario Moroni, prima di tutto Mario Moroni è colui che è... Tu hai ancora i nonni, ad esempio, non c'hai più i nonni, peccato. Perché avrei voluto vedere te che spiegavi a tuo nonno che lavoro facevi. Eh ma lo facevo, lo facevo perché a 15 anni, quando ho aperto la mia prima start-up nel 1999, dovetti spiegare a mia nonna perché dedicavo così tanto tempo davanti a questa scatola che non era piatta, non era al plasma, era abbastanza ingombrante, che si chiamava computer e quindi spiegai cos'era internet, ma... Tu hai spiegato la tua nonna di quanti anni aveva all'epoca? Eh, credo già una bella... Una bella tantina. Sì, tantina così, tu spiegai così una web radio? Esatto, perché poi... Tra l'altro io licenziai la prima licenza, sia, e credo, in Italia, la prima o la seconda, non mi ricordo se... Pensa, adesso c'è un modulo online dove fai richieste un attimo e te la fai. E forse non ci sono più neanche le web radio. Finalmente c'è il modulo e non ci sono più neanche le web radio. Esatto. È vero, è vero. Beh, allora ho fatto bene a nominare però il milanese imbruttito all'inizio. Sai che tu non so se hai visto i film del milanese imbruttito? Beh, sì. Cioè il nano? Sì, sì, sì. Il nano che ha 15 anni come regalo di fare una partita IVA. Ci sta, ci sta. Tu sei così, eh? Cioè la prima partita IVA, la prima partita IVA, a quanti anni l'hai aperta? Ma sai che non mi ricordo, perché io in realtà ho fatto una lunga carriera come manager, come dipendente in azienda. Anzi, io ho sempre pensato nella mia vita di essere stato costruito per essere aziendalista, no? Fare tutti i passaggi. Ma in grado appunto la mia prima start-upina da ragazzo a 15 anni. E poi invece cosa succede? Succede che mi innamoro di un altro progetto e ricomincio da capo. Credo che, boh, siamo attorno ai, comunque, primissimi anni 2000. Quanti contributi avevamo versato? Quanti contributi che non vedrai mai. In due casse, sia quella che anche la ex Empath come artista. Ma lì, fai il conto che hai fatto, tu so, una devoluzione, la emergency, è uguale, capito? Hai dato dei soldi al manager che adesso si stanno finalmente godendo la pensione grazie ai tuoi contributi. Bene, molto bene, sono felice. Sono qualche manager, sono qualche parte, di qualche grande network nazionale che si sta godendo i tuoi contributi. Mi hanno detto, tu sei veramente nato start-upper, quasi, no? Perché appunto ti ha 15 anni, ma come si fa 15 anni a pensare già di far diventare un gioco? Perché la web radio era un giocattolo. Però pensai invece di farlo diventare una cosa di stereo e l'hai fatto. Ma tu pensa che nasce questo progetto a 15 anni che aveva come scopo quello di mettere insieme gli ascoltatori di musica punk e rock con le band. Per cui nel libro, tra l'altro, magari di cui tra poco parleremo, narro proprio di quell'esempio del fatto che io e un amico di Berlino organizziamo, insieme a un entourage di artisti, il primo concerto internazionale della mia vita, che fu il primo concerto organizzato nella mia vita a Berlino. Quindi, insomma, era un periodo pazzesco. Tu non avessi ancora visto un concerto fatto da altri che già facevi i tuoi quasi? Non proprio, però insomma, era quello il bello. E poi chiaramente l'ecosistema era diverso, non si parlava di start-up. Anzi, poi, diciamo, ho utilizzato quel titolo sapendo che cos'era una start-up, ma all'inizio creare un'azienda, creare un'attività online, a fine degli anni 90 era tutt'altro che conosciuto. Anche tra gli addetti lavori, eh? Allora, tu hai nominato il libro, ma prima di nominare il libro che adesso stai facendo il giro, fai firma copia anche tu come Fedez e compagni. Certo, sì, 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 anche di più di Fedez. Anche di più, anche di più si sa. Il tuo primo libro che ho definito best-seller, invece, tu hai detto che si chiama adesso Longseller, giusto? Longseller, così mi hanno detto gli editori. Sì, perché in realtà, oltre ad aver venduto bene quando è uscito, continua a vendere dopo, mai, quanti anni si sono passati. Cinque, cinque anni. Il titolo è di quelli che devi per forza poi bippare, ma va bene, Start-up di merda, perché tu ne hai fatte di start-up, ma soprattutto ne hai viste di gente che voleva fare start-up, ma aveva solo o idee di merda, oppure finiva in merda così. In realtà il titolo nasce un po' chiaramente da una provocazione, perché il sottotitolo è il primo libro che devi acquistare se vuoi prendere una start-up. Perché? Perché io intervistavo in un vecchissimo programma radiofonico le start-up, ogni settimana ne vedevo tre o quattro, e dopo 200 start-up ho detto ma è possibile che tutti davanti al microfono, i microfoni accesi, le camera accese mi dicano che è bello, e poi quando spengono il microfono dicono che è una merda, cioè che è brutto, che è difficilissimo, vi dicendo. E io ero l'unico a non diventare milionario. Cosa stava succedendo? E quindi tra libri online che ti aiutavano in realtà in questo fantastico mondo il mirabolante dei sogni, quello che mi dicevano le persone, e il mio percorso personale, scrissi quel libro, anche un po' di ribellione, no? Cioè da serie, ragazzi, non è facile, non lo è ancora ora. Perché vende ancora oggi questo libro che ho pubblicato nel 2016? Perché è vero. Perché è vero. E perché non c'è un'alternativa? Perché ad oggi ancora viene... Per esempio, o leggo questo, oppure dall'altra parte ciò, come diventare milionario con la start-up. Esatto. A bordo piscina, a Dubai, con il cocktail in mano. Come fare i soldi senza muoversi da casa, come fare i soldi stanno in vacanza. Start-up di merda è stato il primo libro in Europa a criticare il modello start-up. E quindi su questo sono molto orgoglioso, perché c'è un po' il tratto distintivo anche nel mio podcast e dalla mia comunicazione. E la cosa geniale è che chi lo chiama ad andare in giro per il mondo? Gli start-up, per quelli che fanno start-up. La cosa più bella è quella, no? Incredibile, perché poi in realtà quello è un libro che avrei voluto leggere ai 15 anni. Un libro che mi avrebbe permesso di essere un po' più mugnaio, come la mia famiglia del 1800 fa questo bel lavoro artigianale, piuttosto che fanta e imprenditore del digitale. Tu ti senti un po' artigiano del digitale, no? Beh sì, per esempio il mio podcast nasce e finisce, malgrado faccio parte di un network nazionale pazzesco, da me e da solo, sotto il mio studio sotto casa, nel mio mulino. Quindi in realtà sono un artigiano, mi piace, capire come funzionano le cose, come si possono migliorare grazie alle mie abilità e non necessariamente solo affidarmi ai dei professionisti. Direi che poi forse mettendoci quell'artigianità lì hai anche la cura che ci mette l'artigiano e non invece ovviamente quello che devi farlo in serie. Nonostante tu faccia in serie, perché tutti i giorni lo fai, no? Tutti i giorni, 7 su 7, 365 puntate l'anno, il caffettino podcast va in onda, ora all'interno della famiglia di One Podcast, quindi G, di Radio DJ, Repubblica, per intenderci quel gruppo lì. Ma malgrado questo, che fa parte, diciamo, in un grosso network, rimane ad essere il mio sogno, il mio gioco, il mio hobby, il mio sfogo quotidiano per parlare di tech, per parlare di innovazione in maniera critica. Allora, visto che siamo, diciamo la verità, no? Il caffettino non ti fa diventare milionario, lo sappiamo, no? Non è quello che ti dà. Non sono arrivato con la Lamontina. Ma non è quello. Però perché lo fai? Ma perché è un lavoro, sicuramente. Diciamo a chi ci scolta da casa che magari dice, ma ce l'ho anch'io il podcast, ma lo faccio. Ciao Moroni, faccio i milioni e ti saluto. Non è così. Diciamo che dopo... Perché potrebbe essere podcast di merda. Questa era un'altra delle impossibilità che gli hanno chiesto. Diciamo, dopo i primi anni, ho capito che era un lavoro molto faticoso. Devo dire, dopo 5 anni, 1400 puntate, more or less, in questi giorni, finalmente è entrato in un network importante, comincia ad essere un lavoro importante anche dal punto di vista economico. Però io lo faccio principalmente perché mi piace leggere, mi piace scoprire la stampa internazionale, le news, mi piace dire la mia idea, quando ce l'ho, non sempre. E mi piace anche criticare il techno-entusiasmo, che ancora ad oggi, malgrado la tecnologia, non è più un new media, ma è un old media ormai la tecnologia. Ogni tanto anche la stampa nazionale parla di è uscito un nuovo prodotto, una nuova app, l'Amazon italiano, il Facebook fatto meglio della provincia di Bari. Ecco, questa roba qua, che non è fare impresa e comunicare in maniera corretta, è un po' il punto che mi spinge tutte le mattine a dire ehi, attenzione, Elon Musk ha fatto questa cosa perché c'è quest'altro. Ci sono le cose gratis, non ci sono le cose semplici. La politica c'entra, la finanza c'entra, la guerra c'entra nel mondo della tecnologia. Quindi avere un punto quasi, azzarderei Fabio, politico, con la P maiuscola della serie di impegno e responsabilità. Molto interessante perché tu dici senza questo tecno entusiasmo l'hai chiamato, da uno come te che è un entusiasmo di natura, ricordiamoci come avevi chiamato il tuo network e la tua radio. Ok network e ok radio. Cioè più positivo di ok non ce n'era. Anche se la storia, se andiamo a vedere la semiotica della parola ok, deriva da la guerra, da zero killed. Vabbè, insomma, lasciamo stare. Non era poi così infatti, bisogna forse andare a leggere meglio appunto l'etimologia. Ma ancora adesso tu ci metti tanto entusiasmo per raccontare le cose, però diciamo appunto con un occhio critico e reale, senza farti appunto prendere dalle buttate ai grandi giornali, che insomma sappiamo che quando parlano di new technology per loro, per te più che old oramai, insomma a volte la buttano un po' lì così. I titoli sono una cosa che sai fare benissimo, perché il tuo secondo libro ha un titolo che è ancora di più. La fine dei social, l'hai voluto intitolare. Allora, cosa dobbiamo qui, cosa capiremo? Cioè che fine ci fanno fare i social, che i social sono finiti o cosa? Allora, il sottotitolo è dopo che succede, quindi andiamo per scontato che siamo al termine di un'era, l'era dei social media. Ok, parliamo con la regia di là, quindi social media manager, ciao, avete già capito che, ecco, saluta la regia, ha già detto che deve cambiare il mestiere. Tutti di conto che, diciamo, la prima volta che chiaramente mi sono iscritto a Facebook era il 2006, ero a San Francisco, c'era un mondo chiaramente pazzesco, ma parliamo di ormai veramente 17-18 anni fa, cioè nel senso parliamo non più di un new media, parliamo di un'era che si sta concludendo. Siamo passati dai social network, ovvero l'obiettivo di mettere in contatto le persone ai social media, dove vuol dire guardiamo dei media costruiti da altri. Quindi questo ha portato negli ultimi almeno 5-6 anni una polarizzazione pazzesca tra chi crea contenuti e tra chi guarda contenuti, quindi siamo sempre più persone a guardare contenuti realizzati da altri e chiaramente questa, secondo me, è la fine di un'era. E poi è un paradosso. Mi hanno detto che non c'era più la televisione, andiamo a buttare via la televisione perché era passiva e guardavamo solo le cazzate che ci davano. Siamo finiti su un cellulare, ma a fare la stessa identica cosa, anzi a cambiare canale, dove un canale TikTok, un altro canale Instagram, un altro canale Facebook. E a guardare principalmente dei contenuti che non scegliamo noi e di persone non seguite da noi. Illudendoci però di essere noi quelli che facciamo le cose, perché grazie alla nostra foto una volta al giorno su Biri, o qualcosa del genere, siamo allora sull'onda. Sì, tra l'altro in una epidemia economica pazzesca, perché tra l'altro tutte le aziende tech ormai comunicano ogni mese 10.000 licenziamenti, chi 20.000, chi 30.000, chi l'azzeramento dello smart working, remote working, come ha fatto Meta nelle ultime settimane. Quindi ha una crisi anche economica nel mondo tech. Quindi questo libro in realtà cerca di raccontarci anche che cos'è il mondo del tech oggi, cosa sono le piattaforme social media e la nostra responsabilità nella conclusione di un'era alle porte, Fabio, di una nuova era. Ancora più complicata da gestire per noi aziende professionisti, ma soprattutto consumatori e cittadini, dove manca l'elemento principale, la partecipazione e, chiaramente, ritorno lì, la politica. Ovvero ad oggi io la provocazione che utilizzo nei primissimi capitoli è per oggi, per un ragazzo di 15 anni, sarebbe più facile o più difficile organizzare un concerto a Berlino ottenendo una partecipazione reale? E questa è, diciamo, una domanda in cui si apre il libro... Sicuramente da una parte è molto più semplice trovare gli artisti a Berlino, dire per parlare con qualcuno là, sentire tutto, ma avere una partecipazione... Poi capire se la gente prende e esce a casa... Quindi questo punto è un inizio. Cosa interessante di questo libro è che è un countdown verso la fine, no? L'ultimo capitolo è capitolo zero. Una sorta di maratona, meno 42 capitoli. Meno 42, ma sappiamo che non è legato ai chilometri, ma il fatto che siamo dei nerd che guardano e leggono strani libri o guardano strani film. 42 è una risposta che sappiamo tutti. Appunto, si parte dal meno 42, che è l'introduzione, e si arriva allo zero, che è la fine. Tocchi davvero tantissimi, tantissimi temi all'interno. Qui avevo l'indice sotto mano poco fa e davvero c'è di tutto e di più. La politica ritorna, le promesse, il falso mito dell'essere tutti influencer, ad esempio, che ne parli al capitolo meno 27, mi ha così suzzicato un attimo, che tu dici che al capitolo meno 14 parli della singolarità, ma anche della solitudine e di altre condizioni alle quali facciamo fatica ad abituarci. Dobbiamo abituarci alla solitudine? Allora, io, diciamo, cogno questo termine che è la singolaritudine. Singolaritudine. Perché la singularity, che è, diciamo, uno dei temi degli ultimi decenni sul mondo della tecnologia, che è stata, diciamo, profetizzata anche prima, cioè il fatto che noi arriveremo a un certo punto a non riuscire a gestire l'avanzamento tecnologico e quindi in qualche maniera ci metteremo da parte e non riusciremo più a capire. Già, quello che sta accadendo con l'intelligenza artificiale è già un po' questo. Dall'altra parte, quest'era, l'era dei social e l'era del post, diciamo così, covid, ci ha abituato ad abbandonare totalmente il villaggio, ad abbandonare totalmente quel villaggio che avevamo attorno alla nostra città, nel nostro quartiere, quindi vivere in una costante solitudine tecnologica, guardiamo Netflix, ci mettiamo le cuffie, ci guardiamo le piattaforme in streaming, due film in contemporanea, in due stanze diverse, abbiamo in mano il cellulare a cena, insomma, ormai questa è la nostra, diciamo, costituzione. Vuol dire che anni fa quando infatti Sky fece la famosa pubblicità che potevi finalmente guardare, io l'avevo visto come dire, ma anche no, perché dobbiamo per forza essere da soli in compagnia ma da soli in casa? Certo, questa unione di queste due cose ci porta alla singolaritudine che secondo me è uno degli elementi più interessanti del momento di oggi, perché? Perché non lo diamo per scontato ma soprattutto lo diamo come impossibile da modificare, quando in realtà nell'era dell'essere umano ci sono stati sali e scendi continui, il Medioevo è uno di questi, magari sia un periodo fatto di più periodi chiaramente, però ci sono sali e scendi, ci sono responsabilità degli esseri umani che probabilmente noi stiamo cercando di non penderci, ecco, nell'illusione che non possa accadere nulla di più bello. Parli anche, infatti, a un certo punto parli anche di appartenenza, di clan, che noi arriviamo da quel mondo lì e non capiamo che invece forse in questo momento siamo da un'altra parte. Sì, diciamo, anche qui c'è chi ha teorizzato la parola tribù anziché community, tribù è quando ci incontriamo anche... Giornotti, la tribù che balla, non era lui, non era lui. Una bella citazione anche questa che ci rende giovani. Beh, insomma, anche lì... Questa non c'è la citazione peggiore per rendarci boomer, Alberto. Forse anche un po' sì. Siamo in questo periodo che noi cerchiamo in qualche maniera ancora un po' di schiansare. La verità è che in realtà c'è un fenomeno dei giovanissimi che si allontana dai social, la Iole Economy, ma non soltanto. persone che in qualche maniera vedono come alcuni governatori negli Stati Uniti che lì la battaglia è ancora più elevata. Per esempio il Montana da gennaio 2024 ha bloccato anche per i propri cittadini l'accesso a TikTok perché in tanti stati negli Stati Uniti stanno cominciando a pensare che i social sono un atto di fare business ma in alcuni casi come per la società del governo popolare cinese un atto di fare business o sniffing, anche così lo pensiamo in comunità europea dove è bloccato l'accesso a TikTok ai dipendenti della comunità europea per questo motivo. Quindi c'è un pensiero anche che paragoni social media come una delle governatrici di questi stati a tabacco e alcol. Cioè tu lo puoi utilizzare quando è una certa età, quando è una consapevolezza e se ne sei dipendente devi essere aiutato. Insomma come sempre un po' più avanti in certi stati e noi cerchiamo un po' di raggiungerli. Forse finalmente anzi il gap leggermente si sta forse non lo so insomma la comunità europea sta facendo tanto anche la stessa Italia mi ha visto con chat GPT insomma con il garantito della privacy che quello italiano è stato uno dei primi in Europa a fare quello che tutti vogliono fare. Lì la prova i giornali non hanno saputo raccontarla anzi il contrario l'Italia censura chat GPT perché ruba il lavoro agli altri perché mi pare di sentire un po' Bossi quando diceva che i miei regionali rubavano il lavoro a quelli del mondo adesso è chat GPT che ruba il lavoro a tutti perché in quel caso perché la tecnologia viene sempre vista dalla stampa dai media dalle persone comuni come qualcosa di positivo cioè arriva OpenAI con chat GPT che vi ricordo si chiama OpenAI perché era una fondazione creata anche lo stesso Elon Musk è diventata una società partecipata al 50% da Microsoft quindi che fa Rucro è come se domani Emergency diventa Emergency SPA no? qualcosa di pazzesco dicendo ragazzi ok ma noi qua in Europa ci facciamo tanti problemi con il GDPR e voi così potete dare l'accesso a un'intelligenza artificiale senza alcun limite ma anche senza capire che cosa facciamo con questi dati mi sfugge il nome ma sicuramente mi aiuterai tu per futuro nel mondo c'è chi fa anche il contrario quella società americana di abbigliamento sportivo che è passata da essere una società diventare una fondazione si 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 mi sfugge il nome a un nome di una località esotica turistica si si mi viene in mente Columbia che è un'altra che è una concorrenta che non c'entra niente ma non mi vengono in mente loro mi verrà in mente al termine dell'intervista al termine ci verrà in mente beh per futuro ma c'è qualcuno che comunque fa anche il contrario mi puoi indagare anche lì su come su come perché no 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 vabbè insomma comunque diciamo questo è un libro non per il digital detox o dire ok ma infatti mi chiedo questo come fai tu sei appena tornato dal WMF di Rimini che sono le giornate del futuro dell'innovazione multimedia digital e tutto e gli vai là con questo biglietto la visita va bene ma noi chiudiamo tutto ciao ma anche qui è un bias nel senso che noi pensiamo che i social di nuovo siamo il futuro i social sono nati all'inizio degli anni 2000 quando io e te eravamo sui forum e li chiamavamo forum ma probabilmente era l'inizio dei social network sono nati con i vari myspace con i vari xoom xoocities eccetera eccetera e ad oggi a distanza di vent'anni continuiamo a paragonare una cosa nuova l'ha nominato Badù non so che persona seria Patagonia Patagonia ecco ce l'abbiamo grazie e per quanto qua in regia mi dico per quanto riguarda invece l'innovazione è tanto altro oltre che i social media cioè è la robotica la stessa intelligenza artificiale l'utilizzo allora ti faccio la domanda la blockchain adesso ovunque vai parla di blockchain è veramente il futuro anche lì stiamo esagerando stiamo buttando in cacciare anche lì la blockchain fa parte di questo movimento web 3 quello è il problema della blockchain oggi hai uso Brave adesso come browser ma ho detto che devo usare quello uso quello faccio bene che è un sistema per andare in un vecchio peer to peer diremmo degli anni 90 che consuma un sacco di energia e che devi avere una grande organizzazione aziendale perché non è diffusa come il web come il web 2 ma deve essere ancora costruita ed è per questo che insomma il mondo cripto ha avuto così tanti problemi oltre che chiaramente tantissime truffe senza senza pensarci e che è lo stesso problema del metaverso se ci pensiamo la domanda a uno della tua età che ha visto i metaversi di prima no perché mai così pensa tu mai sei uno di quelli che si può spiegami adesso qual è la differenza tra il metaverso e second life ah beh certo certo beh allora la differenza sta chiaramente nella dominazione iniziale cioè il metaverso è un metaverso quello teorizzato un'unica piattaforma dove tutte le persone che non esiste al momento non esiste dove le persone vivono una loro vita vera reale in quasi totale antagonismo con la vita fisica e vivono questa vita dove lavorano hanno le proprie attività sociali e si divertono nel metaverso come la serie di Apple TV scissione esatto dove si staccano tac tac entri su dall'ascensore quello che invece oggi cioè quello che abbiamo visto con second life poi arrivo a dirti che cos'è oggi il metaverse second life è una piattaforma diciamo così di gaming come Fortnite oggi il vero metaverso oggi è Fortnite per i ragazzi dove tu vivi una parte della tua attività con una skin quindi con una tipologia di abbigliamento e vi dicendo che è un'alternativa alla tua vita quindi probabilmente tu sei un ragazzo nella vita diciamo così sei una ragazza esistono più metaversi sono una ragazza punk qual è esatto qual è oggi il concetto di metaverse io parlo di metaverse marketing ovvero tua azienda crea il tuo metaverse per un piccolo una piccola attività specifica per esempio far vedere se sei un'azienda di real estate le palazzi ville che stai costruendo metaverse se vuoi far vedere comunque siamo da quella parte di è diciamo la realtà virtuale concretamente la realtà virtuale la realtà virtuale che già c'è da vent'anni il punto qual è l'equivoco che è arrivato nei consumatori è che meta che corporate che prima si chiamava facebook che hanno cambiato nome il giorno giusto che hanno cambiato nome appositamente perché il messaggio durante la pandemia era ragazzi i social media sono finiti il futuro di domani è il metaverso quindi tutti a prendere questi oculus questi visori e entrare nel metaverso e che quella fosse la soluzione ma in realtà i costi sono alti le persone non vogliono tenere il caschetto per più di dieci minuti la tecnologia che abbiamo a casa noi in sud Europa e parlo di sud Europa è agghiacciante abbiamo ancora delle ADSL che vendiamo come fibre se ancora mi senti non ti vedo su Meet esatto in un ecosistema in grossa crisi energetica quindi in realtà è inattuabile che cos'è quindi chiaramente il futuro forse è Vision Pro di Apple che è una realtà mista mi stavo per fare questa domanda dove tu vedi al di fuori come gli occhiali quelli non sono mai spoccati le mani con cose che non funzionavano e di solito entrano sul mercato quando vale la pena e mi sono detto da quando non vale la pena hanno messo copia in colla sul telefono sembrava che avevano chissà cosa quando hanno fatto primo iPhone quindi dicono sappiamo quando sono previ a vendersi però sono andati a questa Vision Pro che nessuno potrà comprare se perché costa qualche migliaio di ma forse è il posizionamento giusto cioè nel senso che il telefono costa 1500 dollari più o meno il visore costa 5000 4000 quello che è però la soluzione non è consumer cioè non è per tutti è un percorso che ha appena cominciato e tra l'altro Zuckerberg negli ultimi mesi ha ritarato la cosa Metaverse sarà una soluzione per 20-30 anni non per domani e quindi stanno tornando a lavorare sul business dei social media e quindi ad oggi è un bel test un bel gioco e per chi vuole fare Metaverse Marketing può darsi che sia un inizio di via di mezzo non la soluzione di oggi però un inizio di via di mezzo che è quello che aveva fatto anche Luxottica con Facebook anni fa con Devecchio ovvero costruire degli occhiali ma non in Metaverse ma in realtà aumentata quindi io guardo delle cose e ho delle possibilità aumentate aggiuntive in quello che vedo ok usavano l'LSD negli anni settembre per fare la stessa cosa adesso c'è Elon Musk che ha detto proprio questa cosa qualche settimana fa ha detto noi compriamo un visore oddio parlo come Elon Musk non so se c'è un complimento come Elon Musk ti vedo già bello repubblicano ho un po' paura free speech orienti dalla Trump chiudiamo qua grazie arrivederci possiamo puntata no perché o meglio perché leggere il tuo libro e chi lo deve leggere allora non devono leggerlo le persone che sanno già come va a finire che sono sicure di quello che accade nel mondo soprattutto nel mondo della tecnologia non si è mai sicuri neanche in quello che sto dicendo in questo momento le persone invece vogliono farsi delle domande che vogliono terminare questo libro dicendo ok allora voglio approfondire c'è una bibliografia su questo libro estesissima di libri che potete leggervi che prendo diciamo a esempio in affitto per poterlo scrivere e poi persone a cui piace il bello perché il libro è veramente bello è impaginato bene Simone e Giorgia di Blu Orange l'hanno impaginato stra bene degli editor molto bello in maniera fisica e poi ha due peculiarità Fabio che ti faranno impazzire la prima è che per partire con la lettura del libro devi avere di fianco un cellulare fare scan di uno dei due QR code e ascoltare una canzone per ogni capitolo bellissimo seconda cosa ti farà impazzire ancora di più che al termine del libro tu fai uno scan su un altro QR code e hai la versione aggiornata del libro perché la versione aggiornata perché ogni tre mesi si aggiorna fisicamente esce quindi in librerie aggiornato e in maniera digitale e in audiolibro quindi a settembre ci sarà una versione del libro che tu non hai che hai in mano diversa aggiornata con novità è una sorta di podcast eh questa è una bella novità nel senso non so quanti altri libri esistono così non so quanto cioè forse è l'unico quanti matti stavi per dire quanti matti si smettano a fare una roba di genere vuol dire che tu lavori praticamente sul libro tutti i giorni ormai beh allora devo dire che con il team abbiamo elaborato un piano dicendo ragazzi allora tra le news del caffettino che possono modificare il libro ci sono queste ogni tre mesi c'è un flag si accende un flag ogni tanto e dice questa è da e questa è da aggiornare è una cosa folle davvero bello anche classicamente l'impaginazione un'impaginazione particolare ma non fastidiosa che sai che di solito poi quando si cerca di fare gli artisti si fanno delle si può dire cagate assolutamente assurde invece così molto carino e è molto molto fruibile quindi adesso poi io spero tu me lo lasci così me lo posso assolutamente te lo lascio anche qui una cosa che hai fatto hai fatto varie versioni si è uscito con questa è quello di piombo copertina rigida copertina rigida che è solo per allora copertina rigida sono le prime 100 coppie per la community che mi segue su telegram è uno di questi di questi 100 che uso chiaramente ho fatto qualche coppia in più sappiate anche per le per le interviste ma perché mi piace questa cosa perché in realtà anziché fare il contrario dire partiamo con quello che costa meno e poi vediamo per quelli più affezionati io sono partito da quelli diciamo dal prodotto di più maggiore qualità hai fatto il vinile prima esatto ho parlato proprio quel vinile quello che costa anche a me è di più dopodiché è uscita la copertina morbida per dire ok andiamo anche per chi vuole spendere 15 euro e non e non di più e poi è uscito anche l'ebook e tra poco uscirà come chiaramente era clamoroso e normale che sia la serie tv l'audiolibro che leggerò io questa volta e non Riccardo May che invece ha fatto l'audiolibri Startup di Merda che è il libro più ascoltato su Odebole Italia per la categoria business quindi in realtà abbiamo dei bei cugini per continuare il nostro percorso e poi ci saranno altre cose che non ti posso spoilerare basta seguirti tutte le mattine nel caffettino e ci sta tutto in te più o meno adesso tu andrai a parlare dove nei prossimi appuntamenti che hai andrai a parlare del tuo libro chi saranno questi che ti ascolteranno beh allora innanzitutto ci sarà un evento su una spiaggia il 7 luglio ecco perché non c'è più il Giova Beach Party c'è il Mario Maroni Beach Party per quello mi seguite sui social avrete visto che ci stiamo muovendo per una spiaggia perché io voglio cercare almeno con questo libro di fare tutte cose completamente al contrario rispetto a quello che si fa di consueto e poi invece verso il 20 di settembre quella settimana lì quindi guardate fondamentalmente i miei social ci sarà una presentazione alla libreria Mondadori Piazza Duomo a Milano e per cui non vedo l'ora di vedervi poi ci saranno appuntamenti su Roma su Firenze su Bologna da settembre in avanti cominciamo con le vere presentazioni devo dire la verità come hai detto prima settimana scorsa a Rimini a We Make Future arriviamo sulla tecnologia e sull'innovazione è stato fantastico avere centinaia centinaia di firme a copie perché persone di tutti i tipi anche persone che non mi conoscevano sono arrivati hanno visto il libro e hanno voluto parlare con me poi hai brato il caffettino lì dal vivo anche caffettino dal vivo 24 ore di diretta con centinaia centinaia di ospiti in mezzo a una fiera da 80.000 persone per cui lo dico anche per la regia non vi lascio immaginare la difficoltà di portare a casa un audio bello però molto molto bello molto emozionante perché quando stai tutti i giorni in studio 7 su 7 tutto l'anno e stai con i tuoi ascoltatori o con la tua community è clamoroso è bello cioè perché alla fine tutte le persone che ascoltano il caffettino hanno letto qualche mio libro sanno come la pensano e loro credono di conoscermi per davvero no? cioè al 100% però io no io non conosco nessuno di loro e quindi anche ascoltare le loro storie ed è stato un po' questo l'obiettivo di We Make Future è stato un regalo che loro hanno fatto a me che cosa non ha ancora fatto Mario Moroni che vorrebbe fare? beh sicuramente un bel documentario sempre stanno su questi temi o ti dà una lontra all'orca assassina un bel documento ma di narrare qualche cosa e poi altre cosine che in realtà sto già mettendo in pista e che in qualche maniera mi vedono più o meno allineato quello che stiamo facendo oggi però cose nuove un'ultima cosa la cosa che mi piacerebbe fare poi più avanti è uscire dal mondo della tecnologia dell'innovazione cioè cercare di allargare sempre di più il bacino di utenza e allargare sempre di più il pubblico perché mi rendo conto insomma quelli della nostra età diciamo così che devono dare indietro soprattutto le generazioni più giovani lo faccio in alcuni master dell'università lo faccio anche nelle scuole quando vado ma mi manca un pezzettino che è il pezzo proprio iniziale mi piacerebbe fare un giorno un progetto proprio con le scuole elementari forse anche per rincontrare forse tra qualche anno la generazione di mio figlio però però tante cose belle beh allora dimmi e quella che invece hai fatto non vorresti mai più fare? è bello 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 beh allora un'azienda c'è una cosa di cui si è vergognato di aver fatto? no vergognato no quello che non farai oggi è aprire un'agenzia aprire un'azienda tradizionale l'avevi fatto? e beh certo sì l'ho fatto è stato bello è stato bello è stato un bellissimo percorso però se oggi mi dici quella cosa che tu non vorresti fare è aprire un'azienda tradizionale e vi dicendo la cosa che invece in qualche maniera mi spingono a fare ma sto tenendo duro a non fare e non fare qualche cosa di tradizionale quindi un libro per esempio come fare un podcast come fare manuali il corso tipo dieci mosse per essere il mio podcast esatto quella roba lì è chiaro che faccio un lavoro anche molto privilegiato perché comunque oltre al podcast modulo degli eventi su cui io imparo tantissimo quindi e la radio in tutto questo come va? la radio è il tuo grande amore da sempre la voce l'utilizzo della voce è stato bello anche ultimamente tornare a Radio DJ per parlare del libro tornare nelle radio tradizionali venire qui da te oggi però per il momento diciamo che il podcast è una cosa così tanto dentro che la radio quella diciamo così quella in diretta quella con il pubblico quella del quotidiano non dico che sia infattibile da fare ma è molto complicato però mai dire mai e lo sanno bene che quelli della radio perché sono bene insomma quelli di DJ lo sanno bene se no non avrebbero inventato quello che è One Podcast tutto quel mondo no no però insomma tornare da Laura Antonini qualche sabato fa è stato bello perché alla fine sei in diretta arrivano i messaggi è completamente totalmente un altro lavoro non so se è più difficile o più facile ma totalmente bisogna avere un'esperienza nel fare quello e adesso anche sulla radio giusta forse a volte ma chiaramente se non ti ascolta nessuno a volte insomma l'eco è un po' imbarazzante Mario grazie davvero grazie della tua cacchierata grazie di tutti questi spunti che ci dà ogni volta perché la cosa interessante appunto è quella non è un manuale su come vivere o su come morire ma è qualche spunto per poi ognuno fare quello che vuole fare grazie a te Fabio per l'invito se vi va di leggerlo leggetelo altrimenti iscrivetemi sui social Mario Moroni su LinkedIn Instagram e sul canale Telegram Mario Moroni Canale per non perdervi nessun aggiornamento la fine dei social e dopo che succede? cazzo a proposito è social o social? io dico social però social puoi dire social tu sei di Arlunno io sono di Settimo Milanese si fa così nell'Ovest Milanese grazie mille Mario grazie a te a presto grazie anche a voi miei casi milanesi ci sentiamo alla prossima sempre qui su Milano News a presto grazie a te